buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo il manuale tecnico lampade germicide sterilizzare con i raggi ultravioletti autore gianluca luoni editore libri sandit il costo di questo volume è euro 5 90 contenuti del libro abbiamo un'introduzione poi un capitolo dedicato ai microrganismi un altro all'azione ultravioletta un altro ancora all'azione germicida campi di impiego della luce uvc domande frequenti e relative risposte e poi abbiamo anche un appendice è sicuramente un volume utile per chi ne vuole sapere di più sui temi dedicati alle lampade dermicide e la sterilizzazione con i raggi ultravioletti buona lettura e vi aspettiamo per il prossimo nostro video grazie